Tre diversi scenari, tre possibili evoluzioni del fronte roccioso che interessa il Monte Saresano. Nel pomeriggio di mercoledì 10 marzo la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha ricevuto i risultati dello studio commissionato dal Comune di Tavernola grazie al contributo di Regione Lombardia sulle probabili evoluzioni della frana, a comunicarlo l'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. La relazione tecnica stilata dallo studio Geo Terdiardesio sotto la guida del geologo Sergio Sant'Ambrogio e dalla spin-off Egg for Risk guidata dal professore Giovanni Crosta del Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell'Università di Milano Bicocca ha evidenziato tre possibili scenari di frana. Ciascuno di questi è caratterizzato da una precisa volumetria compresa tra i 440.000 metri cubi di materiale e il minimo stimato, sino ai 2,1 milioni di metri cubi di rocce in movimento previsti dallo scenario massimo. Le simulazioni di scendimento ed espandimento della frana in caso di collasso hanno mostrato che nel caso dello scenario meno preoccupante con parametri geotecnici sfavorevoli, il materiale che raggiungerebbe il lago è sostanzialmente molto ridotto se non trascurabile. Con lo scenario intermedio presenterebbe un volume di circa 350.000 metri cubi con velocità di ingresso nel lago medio-alte. Infine, nello scenario peggiore, il volume di materiale che finirebbe in acqua sarebbe di circa 600.000 metri cubi con velocità elevate. Questo genere di simulazioni sono indispensabili per aggiornare i piani di emergenza dalla protezione civile del comune bergamasco, ma anche di tutti i paesi riveraschi, in caso di eventuale tsunami, ha sottolineato l'assessore Foroni. A riguardo, l'autorità di Bacino, la quale con un contributo di Regione Lombardia, ha incaricato l'Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Fisica e Astronomia, al fine di realizzare una modellazione delle onde d'acqua sollevate dai fenomeni franosi. I primi risultati sono attesi per la prossima settimana.